franco siamo alla conclusione di una fase iniziale di un campionato e alla conclusione probabilmente del gran premio che veniva considerato da tutti la prova della verità sulla ferrari e le cose sono andate in maniera opposta rispetto a quello che si pensava un ciao a tutti gli ascoltatori dei motosport report allora mondiale di formula 1 finito cinque gare e la stagione si è già conclusa con la mercedes che ha fatto la quinta doppietta oscurando quelli che erano i previsti aggiornamenti tecnici della ferrari da un punto di vista sia aerodinamico che motoristico quindi game over per quanto riguarda il mondiale si apre un cantiere tecnico per cercare di capire come la ferrari può uscire da questa crisi allora le possibilità sono due e le avete evidenziate anche in motorsport point com da un lato una vettura che è già nata perfetta cioè plafonata che probabilmente sente poco gli sviluppi oppure degli sviluppi che sono sbagliati o non compresi dai piloti dove sta la verità probabilmente sta clamorosamente in mezzo nel senso che tanta è stata la roba che ha debutato a barcellona per le prove libere e c'è stato un graduale continuo peggioramento delle prestazioni della ferrari ragion per cui questo mi fa credere che non sono stati capaci fra la fase di simulazione preparatoria e la gestione in pista della squadra a trarre il meglio di quello che la rossa era in grado di produrre ti do un dato la ferrari è cresciuta di 20 millesimi rispetto ai test invernali la mercedes è cresciuta di 8 decimi quindi c'è un abisso chi parla di macchina che andava bene prima non va più bene adesso direi a questo punto che sono delle stupidaggini perché sono macchine completamente diverse però la ferrari chiamiamola vecchia andava più forte poi è ovvio bisogna metterci dentro che le gomme erano diverse le condizioni perché poi lo so già che nei commenti arriverebbero ovviamente le proteste però il dato è otto decimi di differenza che sono gli otto decimi che poi abbiamo visto abbiamo visto in pista allora forse in grado di dare qualcosa di più forse però c'è un problema che il gruppo di progetto della ferrari è costituito essenzialmente da bravissimi aerodinamici hanno estremizzato secondo me molto bene quel concetto hanno dato la linea dell'autowash dell'ala anteriore eccetera però evidentemente a livello meccanico c'è qualcosa che non va e secondo me la sospensione se la guardate è la stessa da due anni e la cosa che risulta incredibile osservando dall'esterno quindi è che la vettura non sembra neanche male cioè la vedi è una vettura che non non dà delle grosse criticità ai piloti e quindi dove intervieni in realtà nella fase della gara si sono lamentati che non riuscivano a chiudere le traiettorie soprattutto nel famoso t3 la parte guidata del circuito di barcellona che spaventa anche in ottica monte carlo il sottosterzo da combattere è difficile i piloti non si trovano alla condizione di fare le linee giuste e quindi c'è un surriscaldamento delle gomme si è parlato anche al di là del gap prestazionale tutto quello che si vuole di una strategia totalmente sbagliata da parte dei box ferrari qual è la tua opinione allora ci hanno provato come al solito provano a cambiare le situazioni mettendosi nella condizione che non è quella ottimale per spaiare il gioco da quello che è emerso in casa mercedes la gomma dura era la gomma sbagliata da non usare nella gara la ferrari ha provato a costruire la strategia con le clerche e quindi non aveva alcuna speranza di riuscire a conquistare il terzo posto non ti è sembrato però abbastanza tardivo il l'ordine se c'è stato di far passare vette alla luce poi della safety car di far passare vette quando le clerche era davanti perché senza quei secondi perduti dietro le clerche probabilmente almeno un terzo posto sarebbe saltato fuori io non credo che la ferrari di ieri di domenica era nella condizione di andare sul podio penso che verstappen non sarebbe stato passabile per quello che verstappen pilota di oggi completo maturo è un anno che non commette la minima sbavatura quindi sta regalando alla red bull il massimo di quello che è la prestazione che la rb 15 in grado di gare quindi fatta questa premessa sono d'accordo con te che ci voleva una rapidità maggiore di decisione da parte del muretto e questo probabilmente rischia poi anche di incrinare quello che è un buon rapporto fra i due piloti almeno nel rapporto con noi giornalisti arrivano insieme e sorridono poi se senti i messaggi radio la musica è diversa perché sono lì che spingono per ottenere l'opportunità di passare il compagno in squadra quindi lì ci vuole sicuramente maggiore maggiore visione nella gestione dei due piloti io credo che la ferrari in questa fase stia cercando di tutelare in tutti i modi come dicevi tu nelle puntate precedenti il signor sebastian vettel solo che fino a oggi sebastian vettel non ha dato la fiducia che gli è stata concessa sono dell'idea che è stato giustissimo il tentativo che ha fatto quello non si può contestare e non lo si può nemmeno definire un errore perché quello fa parte delle corse uno ci prova e poi a volte non va bene però indirettamente emilton ha costruito la propria vittoria avrebbe vinto probabilmente facilmente allo stesso modo proprio su quella manovra di vettel perché se vettel non fosse andato all'esterno di bottas bottas non avesse perso la macchina nel tentativo di resistere a vettel probabilmente avremmo potuto vedere un gran premio forse più vivace almeno per quanto riguarda la lotta per le prime due posizioni fermo restando che per me emilton è su un pianeta differente rispetto a quello di bottas questa volta condivido quello che dici aggiungo un aspetto tecnico secondo me importante bottas ha avuto un problema di frizione partendo e quindi non ha avuto l'avvio che lo avrebbe tolto dal rischio di avere vettel troppo vicino detto questo per me il capolavoro di luis non è stato tanto la prima fase della gara dove poi entrambi hanno gestito e la mercedes aveva come obiettivo di fare 40 giri con le gomme medie e hanno quindi cercato di gestire con le soft l'andatura per poter riuscire a fare un solo pit stop altro segnale di grandissima superiorità però il colpo di genio è stata la ripartenza del safety car pronti via ha detto adesso facciamo vedere quanto vale il gioco e ha rifilato due secondi e nove e giro più veloce e giro più veloce a bottas quindi questa è stata una bottas importante anche dal punto di vista del mondiale piloti e credo che la spagna sia un po una cartina al tornasole della stagione vogliamo anche spiegare visto abbiamo letto di tutto Hamilton in crisi dopo le qualifiche due cose che Hamilton in qualifica aveva avuto un problema di ricarica del sistema ibrido e che di fatto il secondo turno nell'ultima fase è stato vanificato dalle condizioni della pista tanto è vero che tutti hanno provato a migliorare il tempo e nessuno ha fatto il tempo a parte che però era uscito a 45 minuti dalla fine sì è così però ti dico anche che io a barcelona cero Hamilton era abbastanza teso cioè l'idea che cominciasse a esserci una ciclicità di pole position di bottas che alimentava questo fantasma di di rosberg che ritorna come nel 2016 un po gli aveva lato fastidio e credo che l'impegno importante in gara fosse proprio finalizzato a chiudere questo questo momento e riprendersi una vittoria per cui sette punti di vantaggio nel nel mondiale grazie al giro più veloce tre a due nelle vittorie anche i numeri girano da un'altra parte la red bull a questo punto può pensare davvero di scalzare la ferrari e diventare il secondo incomodo la red bull in questo momento sta facendo un lavoro certosino nella messa a punto di questa strana sospensione multilink anteriore e lì ci leghiamo al male della ferrari perché la mercedes ha una sospensione particolare strana con due archibugi che escono dal portamozzo e spostano i punti di attacco tradizionali la red bull si è inventata addirittura due bracci separati a un posto di un triangolo normale l'unica top che è rimasta come era è la ferrari e questo mi fa pensare che quella sia la zona dove a maranello devono lavorare detto questo io credo che il potenziale della red bull sia comunque minore a quello della ferrari e credo che nell'andare della stagione oltre a sperare in una vittoria di qualche gara del cavallino si vedrà di più la differenza perché io poi sto motore onda così clamoroso ancora non l'ho visto dicono che arriverà in canada ma ancora non l'ho visto c'è qualcuno in ferrari che sta picchiando i pugni sul tavolo o stanno abituandosi a queste sconfitte mi sembra abbastanza sempre dall'esterno abbastanza tutto tranquillo sereno cioè si subisce si dice sì stiamo lavorando miglioreremo non abbiamo ottenuto quello che speravamo insomma mi manca un fattore di cattiveria di grinta che forse un tempo c'era dentro secondo me nei meeting tecnici c'è come e secondo me qualche rederazione per qualche ruolo è probabile che anche arrivi ma non ci saranno purghe cioè qui oggi ho cominciato a sentire leggere di gente che chiede out binotto è una stupidaggine clamorosa cioè binotto oggi in questo momento è la figura intorno al quale si lega tutto e forse ha troppe responsabilità in questa fase per cui risolverle tutte la gestione dei piloti piuttosto che la gestione della macchina non è certamente facile io la sensazione che ci sia un po la mancanza del vertice dell'azienda ferrari il presidente ha sparato una battuta che ha fatto ridere mezzo mondo con la storia che la ferrari è veloce grazie al giro più veloce fatto col cambio gomme e dando della fortunata alla mercedes penso che ci abbia ripensato dopo il weekend spagnolo e il ceo camilleri è una figura che sta sempre un passo dietro magari è attiva e funzionale è stata la persona che ha confermato il ruolo di binotto e non lo ha messo in discussione però manca la presenza alla marchionne alla montezemolo che avevano la capacità anche di motivare di dare una carica incredibile a tutto il sistema questa è una delle difficoltà altre cose del gran premio di spagna una buona ass è un po limitata anche da da questo grosjean che ne combina continua a sbagliare uno dei piloti che sono cresciuti meno nella loro carriera in formula 1 va va solo forte ma continua a comportarsi da debuttante allo sbaraglio lasciami dire ho parlato con steiner ieri ridendo nel paddock diceva se questa volta si toccavano io non li facevo tornare a cambiarsi ma si sono toccati se mi portavano via la possibilità di andare a punti con due macchine non li facevo tornare motorhome si andavano a cambiare altrove e dice ho sparato una serie di parolacce che per fortuna non va in radio direttamente è sul secondo canale della squadra e gli ha dato un messaggio molto chiaro che dovevano smettere di fare cose che non vanno fatte è anche vero che sono stati forse gli unici a fare un po di spettacolo perché è stata una gara terribile da quel punto di vista c'è un dato di fatto preoccupante purtroppo il secondo dato di fatto preoccupante per i colori italiani le prestazioni dell'alfa romeo che mi sembra un po con gambero e in spagna era aveva solo una rivale la williams e questo brutto è brutto veramente molto anche per antonio giovinazzi allora antonio ha avuto problemi di freni per tre giorni quindi alla fine ha perso anche un po la fiducia nell'uso della macchina per trarre quello che la macchina era in grado di dare ma il segnale arriva da Kimi Raikkonen che comunque era disperso è uscito in qualifica è uscito alla prima curva in gara quindi è il segno che era una macchina che non era a posto si dice che le modifiche che sono state portate come pacchetto aerodinamico a momelo non funzionassero e quindi c'è stato l'ingresso in un tunnel che ha fatto precipitare una macchina che invece secondo me ha altri potenziali adesso si va a monte carlo con tutte queste problematiche soprattutto considerando il distacco nella parte più guidata di barcellona della ferrari nei confronti della mercedes questo distacco potrebbe ripetersi in un circuito cittadino io a sta teoria ci credo zero perché monte carlo come tu guido sai benissimo puoi spendere del drag per trovare del carico a costo zero hai gomme che sono quelle della della soluzione di mescola più morbida quindi l'approccio teoricamente obiettivamente diverso non mi stupirei se proprio a monte carlo la ferrari trovasse invece sebbene non ci sono i famosi curvoni una di quelle piste dove potrebbe far funzionare questa macchina così strana aspettiamo a monte carlo grazie franco si tieni conto occhio al red bull ecco lì quel quello è il terreno di verstappen se non commetterò ri quelle temibili e toto wolf si vuole togliere un sassolino promettendo che conquisterà la sesta doppietta del mondiale vedremo grazie franco e grazie a voi appuntamento al prossimo report del sui gran premi di formula 1 di motorsport puntocom